salve a tutti ragazzi oggi vi spiegherò anche se credo che i ragazzi e le ragazze più giovani sappiano già cos'è vi spiegherò cos'è il lag il lag come dice wikipedia è il latency gap diciamo che quando lagate in un videogioco è come per esempio quando il lag si verifica nelle partite in genere quelle che vi importano di più in cui siete più concentrati e state facendo un'ottima performance e sono quelle che chiamano in causa molti santi per risolvere la questione adesso devo vedere il gatto e poi torno a spiegarvi del lag cosa vedo del gatto mi sa che sto laggando no impossibile dunque dicevo il lag dicevamo allora il lag si verifica quando la connessione non è stabile e in genere per gli altri siete tipo fermi e non vi muovete o mentre voi vedete che voi siete fermi in realtà vi siete mossi da tutt'altra parte in questo video ho introdotto un po di lag per farvi capire che cosa succede dunque vediamo adesso vi faccio vedere per esempio faccio uno schema per farvi capire quanto fastidio allora dunque stavamo dicendo che ma il lag basta me ne vado impossibile beh vedremo se la prossima volta riuscirò a spiegarvi meglio come è il lag perché ho qualche problema di connessione però non con l'ue ma non 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 non